dal primo piano siamo tornati sabato dino dance in compagnia di alice ciao alice ma guardate ragazzi è veramente vestito tutto punto abbiamo anche avuto qualche difficoltà a riconoscere perché le amiche non scherzano mica sono molto molto carine anche molto ma guarda lì guarda lì che beve vicino ci hanno anche su giustamente sono le tue conigliette alice assolutamente sì ecco era semplice da capire alice alice da dove arrivi la nave la nave è vero che ti sposi ebbene sì alessandro cappellaio matto sì lui è lui lui è proprio lui ce lo vuoi descrivere in tre parole tre aggettivi meraviglioso stupendo fantastico ha usato tressi nomine comunque l'aggettivo era un ok alla fine alice è solo innamorata dopo quanto tempo che vi sposate quasi due anni quindi e questo è vero amore solo amore si avete fatto molto in fretta sì ma d'altronde se no ti svegli alice nel paese delle meraviglie se no te lo lasci scappare via alessandro intanto ci raggiungono altri amici allora alice quando direte sì il 23 quando quando il 23 sempre a nave no a salò a salò tutti invitati mi raccomando allora vuoi dire qualcosa in particolare alessandro ti amo ma che bella alice mamma mia io vi farei un applauso un applauso perché troppo brava troppo brava alice allora noi ti salutiamo facciamo una cosa molto veloce così ti lasciamo andare alle tue amiche un saluto alle amici a casa ciao a tutti e grazie alice ciao